La scintilla l'accesa qualche giorno fa al quotidiano online, la notizia poi rilanciata da Dago Spia in seguito è diventato un vero scoop che se confermato potrebbe significare quanto di peggiore per Milano, la Lombardia e l'Italia tutta. Expo 2015 universalmente riconosciuto come momento di rilancio per la nazione rischierebbe di slittare, un rumors non confermato dai vertici ma che si fonderebbe sia sui ritardi nei cantieri, parzialmente sanati con doppi turni di lavoro per gli operari, sia sull'attesa dei maggiori paesi del mondo a confermare la propria presenza, un'attesa dai più ritenuta anticamera di un'impresa poco fortunata. Negli uffici milanesi sono arrivate le conferme sulla presenza di 125 paesi ma finora Stati Uniti, Inghilterra, Canada, Australia e altre nazioni europee come Olanda, Finlandia, Portogallo, Svezia, Grecia e Lussemburgo avrebbero detto di non voler partecipare. Un problema non da poco si è confermato visto che nel piano di Expo sarebbero stati riservati spazi molto grandi a nazioni come gli Stati Uniti. Un ritardo e uno slittamento non sarebbero indolore visto che tra sanzioni e appalti vari la multa sarebbe di minimo 51 milioni di euro per arrivare fino a 119 milioni. L'unica certezza ad oggi è che del progetto vincitore cinque anni fa contro l'altro candidato alla città di Smirne non resta granché. Era il 31 marzo 2008 quando arrivò la conferma Expo 2015 sarebbe stata tutta italiana. Delle due linee metropolitane previste ce ne sarà una sola, le vie d'acqua sono state sostanzialmente accantonate e poi forti dubbi sulle vie di collegamento anch'esse previste per l'evento Tem, Brebemi e Pedemontana e le inchieste che hanno rallentato il progetto già a partire dal primo appalto sulla piastra di posizionamento dell'Expo e poi il ritardo nell'acquisizione dei terreni e sulla costruzione del villaggio Expo oltre che la totale incertezza su quanto rimarrà dopo l'esposizione un tema importante ma ancora indefinito. E se Parigi ricorda la sua Expo del 1889 per la creazione della Torre Eiffel Milano, slittamenti a parte, rischia di lasciare come ricordo una brutta figura.